Com'è possibile? Un tessuto così buono, scelto con tanta cura, trattato con tanto amore. Ma con che cosa l'avete lavato? Questo tiene. Questo è stato lavato con Ava per lavatrici extra. La durata di un tessuto dipende molto dal detersivo con cui lo si lava. Anni di ricerca scientifica, anni di severi collaudi hanno creato un detersivo che lava bene, pulito e non rovina il tessuto. Ava per lavatrici extra. Lavato con Ava per lavatrici extra il tessuto tiene. Dopo una lunga serie di lavaggi la differenza si vede così. Questo tiene perché è stato lavato con Ava per lavatrici extra. I tessuti costano e devono durare. Lavato con Ava per lavatrici extra il tessuto dura. Dopo un anno, dopo due anni in casa la differenza si vede così. Non una lisatura, forte come nuovo. Per un bucato pulito e che duri veramente di più, poche parole e fatti serie concreti. Questo tiene. Questo è stato lavato con Ava per lavatrici extra. Anche Ava per lavatrici extra contiene le figurine del concorso Mira Lanza.